Allora, come stavo dicendo, andiamo a cercare questo vagabondo e vediamo cosa succede Comunque, stiamo andando bene ragazzi, non come l'ultima volta, però Perché l'ultima volta è stato un disastro, però almeno due o tre domande le abbiamo sbagliate Un po' di più le abbiamo beccate, la cosa è positiva Quindi, o sto migliorando su questo titolo perché ci ho giocato a breve distanza Oppure ho avuto culo Ok, vediamo adesso se troviamo qua il campamento delle barboni Ed entriamo con un fucile Grazie come siamo qui cosi apu nia pu nia pu nia cosi Nooo si Mi prego non ditemi che devo ritornare in centro Ma adesso possiamo cercare No il giornaletto no Abbiamo la prova Si per un attimo Oh si Sembra familiare E' quella di Pri Però un attimo è tagliata Quindi di sicuro C'è anche la sua borsetta Interessante Ackerman non sembra molto di un dancer Ok Ci leggiamo il giornale Se sentite il rumore di motori Non vi preoccupate è proprio Che devono rompere i coglioni C'è ancora un attimo C'è ancora un attimo In Santa Monica Ciao Jack Mr. Benson Questo è Courtney Sheldon È un amico di la guerra C'è sicuro che voi Chiarano di fare un'amica storia Buongiorno Jack Mr. Sheldon Buongiorno Buongiorno Seguite Courtney Nei 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 Ma questi Non erano i nostri colleghi Nell'esercito Noi abbiamo un'amico con loro Quelli che sippurano lentamente Dicono che sippurano lezze Dicono che sippurano lezze Lezze Ma sono Lezze Lezze Nei 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 Lezze Nei Nei E Nei Se Estotete Mae Noi Ziet Noi Non Ed Mi Vuoi Negotiar Jack The only thing these guys understand Is force, Sheldon They got to the top back east By proving to be more vicious Than the English, the Irish and the Dutch They make their own laws That's the nature of a secret society For God's sake Courtney You wanna be a doctor How can you fight with that We are better trained Jack Sì perché uno che è nell'esercito Crede di poter sconfiggere Tutta la criminalità da solo Qual era Batman se non sbaglio Ok Ok abbiamo scoperto questo Io intanto ho anche stoppato Il video Perché è già passato un'ora Da quando regista e non voglio perdere Non è di importante Quindi Adesso ci mancava soltanto La casetta da andare a visitare Ma credo che già siamo verso la fine Ci abbiamo trovato quasi tutto Farò un attimo Di indizi ho controllato bene Credo di sì Però Voglio fare un ultimo sopralluogo Il giornale Visto 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 C'è niente qua dietro Ok direi che possiamo andare Però prima ci mancava l'ultimo Tassello Avevamo l'ultimo luogo da visitare Vediamo cosa ci dicono O gli ultimi luoghi No Casa dei qui Voglio andarci un attimo Io voglio andare un attimo Dal marito Perché sarebbe troppo facile Incolpare il vagabondo Quindi Voglio capire se c'è qualcosa sotto O meno E chiudere questa storia Il più in fretta possibile Perché Ragazzi È in arrivo una nuova serie E Spero che vi piacerà Su Medieval 2 Total War Non so se lo caricherò Prima di questo Però È un titolo Bellissimo Ci giocai anni e anni or sono Ed è uno di quei pochi titoli Che Rimangono impressi E non sono un semplice Copia in colla Horror O cose varie Ok Danni Per milioni di dollari Spero tanto che Mi vedete In webcam E io per guardare La webcam Ok Siamo quasi arrivati Finalmente Perfetto Dov'è? Dov'è capire una cosa Se sono complice Lo posso capire In un modo soltanto Dove cazzo è quella Barchetta? Perché è una corda Di una barca E quello Da dove l'ha preso? Voglio vedere Se è con bacio Secondo me Il marito Voleva ammazzare la moglie E intrascarsi qualche cosa Oh Oh Finalmente un'altra cosa Giacca bagnata Solo per questo? Cioè sono venuto qui Soltanto per una cazza Ok Abbiamo E cazzo pure Con questi cani Che rompono i coglioni LAPD No no un attimo Un attimo Perché mi dice ancora qui? Vediamo Sì Ok Possiamo andare alla centrale Naturalmente farò Un piccolo taglietto Perché qui ci sono Dei cani Che rompono la minchia Cioè qua Quello si è infilato in auto Senza nemmeno Ok Cioè io qui vedo millemila nomi Ma per me le auto sono tutte uguali Una merda totale Cioè Non camminano Va bene Ok ragazzi Ci vediamo Non appena arriva La stazione di polizia Così Risolviamo questo caso Ok Siamo così arrivati Andiamo a interrogare Le ultime persone E Credo di aver trovato Tutti gli indizi Almeno lo spero Almeno Spero Così Terminiamo anche questo caso E ce ne mancano Veramente pochini Credo che siamo A metà gioco Almeno spero Poi Boh Ok Per fortuna C'è il nostro Dov'è? Allora Voglio sapere Il contatto Con la vita E questa volta È dura Scarponi Allora Io voglio Utilizzare L'intuito E me ne voglio uscire Subito Subito Forziamolo Però è giusto Ok E forziamolo Di nuovo Perché Sono messa Allora Prego Abbiamo anche la prova Oh Ce l'abbiamo fatta Ed ecco Ed ecco lì Nostra Ex collega Di strega Risolto Vediamo Se abbiamo trovato Tutto Un po' Qua Qua Quindi abbiamo concluso Sì ma il mio collega Va bene il mio collega Delle cose strane Tipo picchia la morte Allora 14 su 17 Domande corrette 14 su 16 Ho utilizzato l'intuito meritorio Il conducente dell'autobus Che ha portato verso la morte potrebbe Aver voluto Testimoniare non so chi sia Comunque Guardiamoci l'intro del prossimo caso E poi ci salutiamo Perché Un'oretta e un quarto E mezzo è durato tutto Il caso Non capisco perché ogni volta Andiamo in questo pub In questo locale ZI padrone Entri si accomodi Sì negli anni 40 Vedere un tavolo Al tavolo Un nero con un bianco Negli Stati Uniti Era un qualcosa Che accadeva ogni giorno Anche Ma qui vedo tutti neri Martin Luther King È passato di qui un po' prima Ma lui non è sposato Che cazzo ci fa qui Morte di una segretaria Ok vediamoci l'intro E poi Ci salutiamo Perché ragazzi Devo renderizzare Un casino di video E se no Veramente tanto Ok Questa è già Fatta di suo Vediamo chi è Ok 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 Tutte donne ci sono capitate Bene ragazzi Quindi termino qui questo video E nel prossimo andremo avanti con il caso Mi raccomando lasciate un bel mi piace Condividete il video Scusate ma sono completamente Fuso e stanco Noi ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti voi Ciao a tutti